Mister, non c'era modo migliore di salutare la Serie A qui al Bentegodi? Ma è meglio non salutarla, la cosa migliore di oggi è meglio non salutarla, però il campionato è stato fatto avendo avuto un'andata particolarmente bassa come punteggio, è chiaro che poi il recupero è diventato difficile, per ogni domenica era un'ultima spiaggia e mi ha pagato la Dazio in qualche partita, però mi sembra che questi ragazzi mi hanno dimostrato di avere cuore, dignità, forza e battere Milan, Juve, così nettamente parlo io, perché non abbiamo neanche sofferto, devo dire la verità, abbiamo prodotto di più, abbiamo creato di più, abbiamo fatto più azioni, più pali e gol, mi sembra che la squadra abbia perlomeno dimostrato al proprio pubblico di essere degna anche di questi 25.000 che sono veramente una forza importante. Ecco, come mai contro la grande squadra un Verona veramente apparso in grandissima forma, con la testa giusta, che come squadra si è mossa molto bene dal primo minuto all'ultimo? Adesso è un po' di tempo che si lavora, tanto, è un passaggio fondamentale, poi recupero di qualche giocatore, importante, condizione fisica ottimale, mentalmente probabilmente siamo anche predisposti ad avere la forza di credere in quello che si fa, è un gruppo così abbastanza rodato, abbastanza capace, io penso che abbia la qualità per far bene anche in futuro, insomma, questo è il mio pensiero, non è questione di momenti, è questione che tu per battere il Milan, per battere la Juventus vuol dire che ha una qualità importante, l'attenzione, il recupero di giocatori è stato importante, è stata un'anata che abbiamo pagato a duro prezzo perché le partite che dovremmo vincere le abbiamo perse e le partite che dovremmo perdere le abbiamo perse, e quindi è senso che ogni domenica era l'ultima spiaggia, otto punti erano difficili, abbiamo avuto questo score importante, i risultati utili nel generale di ritorno, non sono bastati e questo ci dispiace molto perché veramente questa squadra qui meriterebbe ampiamente la Serie A, non da penultimo, neanche da terz'ultimo, penso sia una squadra da metà classifica in su. Adesso c'è l'ultima, col Palermo, la trasferta più lunga alla ricerca, insomma, davvero del finale col botto. Eh, beh, è una partita molto dura perché loro devono vincere per questa squadra, ma noi andiamo là con dignità, con voglia di far bene, speriamo che è un ambiente molto complicato, molto difficile, troveremo un ambiente molto caldo, ma il Verona penso possa fare la sua partita rispettando gli avversari e rispettando anche il campionato.